Francis, un saluto. Piaciuta quella erbetta che ti abbiamo mandato? Buona, no? Non si può andare avanti senza. È stato come l'unzione. Mi fa piacere, ti sia piaciuta. Robetti una scelta. Scelta dal Signore. Esagerato. Abbiamo conservato dei semi. Per favore, è molto importante. Custodire quello che il Signore ci ha dato. Puoi dirlo forte, è un dono di Dio. Questo soffio dello Spirito che ha svegliato tante coscienze. Sei un poeta e poi sei un purista. Stavamo con tutti questi movimenti di sigaretta elettronica. Si rischia di perdere un po' l'autenticità. Sempre quando si sviluppa un movimento, c'è il pericolo che si anacque un po'. Che perda quella forza dall'indici. Che poi sono mode. Passano. Prima o poi. Hai ragione. Poi chi se ne frega. Io vado avanti. Erbetta, fate in casa. Andiamo avanti dritti così. Ci piace. Non perdere quella parraesia, quel coraggio di portarlo avanti. Ah, grazie, grazie. No, no, vado avanti. Poi se sento il tuo sostegno, è quello della Chiesa. Della Chiesa. Ci chiede di farla crescere con qualche comandamento, stare attenti a quello. Eh? Ma sempre... No, capito, no. Ti sta salendo, eh? Buon compleanno. Sì, sì, sì. Buon compleanno. Pighetti è salita a mare. Una delle cose più belle. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Le facete andare? Dai, dai, dai. Ti lascio. Goditi lo sballo. Quanto mi piace. Questa è una cosa molto bella. Bella. Ci sentiamo. Adio padre, figlio e spirito santo. Chissà l'offra. Ciao. Ciao.